Lasciamo andare per un momento tutto, lasciamo andare le cose che abbiamo sopra, le appoggiamo per terra o nella sedia vicino, facciamo spazio, se qualcosa ci dà fastidio ce ne liberiamo, se c'è qualche idea che ci dà fastidio ce ne liberiamo per un momento, lasciamo, lasciamo ieri, lasciamo quello che è successo oggi, lasciamo fidanzati, fidanzate, lasciamo il lavoro, lasciamo le bollette, per un momento, per un momento, solo un momento, lasciamo tutto, lasciamo cadere il corpo, lasciamo sedere il corpo dove è seduto, togliamo qualunque tipo di sforzo, solo per un momento, se c'è tensione lasciamo anche la tensione, non lasciamo andare, lasciamo dov'è, se c'è, se non c'è, se ne va, lasciamo l'idea di dover ottenere qualcosa da questa serata, lasciamo per un momento l'idea che forse questa serata sarà la svolta, ci sediamo, ci riposiamo per un momento, è possibile riposarsi per un momento? Solo un momento, non è chiesto di più di un momento, lasciamo il bisogno di fissare qualcosa, di capire qualcosa, lasciamo che la nostra attenzione riposi in noi, qualunque pensiero arrivi lo lasciamo andare e ritorniamo qua, siamo qua, abbiamo tutto quello che ci serve in questo momento, abbiamo una sedia, abbiamo un buon clima, abbiamo una voce che ci accompagna, non ci manca niente, la nostra attenzione è in noi, non è nelle mie parole, è seduta sulla stessa sedia dove siete seduti voi, lasciate essere le cose così come sono, anche perché sono così come sono, volerle diverse, volere diverse le cose in questo momento non cambia nulla perché sono esattamente così, volere diversa la mia voce è inutile perché la mia voce è questa, volere diversa la sedia? Impossibile, la sedia è questa, quindi lasciamo essere le cose così come sono, la notizia è che il posto nel quale siamo adesso è il posto nel quale passeremo tutta la vita, perché è il momento presente, è il posto, luogo, spazio, tempo, non c'è differenza, non c'è un qui senza un'ora e non c'è un'ora senza un qui, giusto? Quindi spazio o tempo sono esattamente la stessa identica cosa, non posso essere in un luogo ma in un altro tempo, è un'unica cosa, quindi se io faccio amicizia con questo momento sarò a casa sempre, sempre, qualunque futuro, qualunque progetto noi abbiamo si manifesterà ora, giusto? Mi seguite? Quindi possiamo scegliere, scappare costantemente da questo momento scomodo con idee che ci promettono la salvezza domani e quel domani come sempre sarà presente e quindi se sto male oggi starò male anche domani, o fare amicizia, o mettere come intento veramente in modo chiaro fare amicizia con questo istante, cosa vuol dire fare amicizia con questo istante? La stessa cosa che essere se stessi, chi è che vuole essere se stesso? Tutti vogliamo essere noi stessi, cosa vuol dire essere se stessi? vuol dire permettere all'istante di essere esattamente così com'è, tutto ha un suo posto, tutto è esattamente al suo posto, guardate ognuno è seduto al suo posto, io sono sotto il mio posto, ogni cosa è esattamente dov'è, non c'è caos, anche in una stanza disordinata non c'è caos, perché ogni cosa è arrivata lì a causa di movimento, giusto? Perché sono arrivato 4 giorni di fila in ritardo e quindi ho lanciato i miei vestiti e sono caduti proprio in quel modo, un giorno poi entro e dico madonna che casino, no no no, è tutto al proprio posto, è esattamente dove tu l'hai lanciato, mi seguite? Non c'è niente fuori posto, neanche in questo momento, dal momento che noi riusciamo a essere presenti e riusciamo a renderci conto che questa è l'unica possibilità, sentiamo anche se è solo per un istante che non ci manca niente, in questo istante, ditemi onestamente se adesso avete bisogno di qualcosa, in questo istante, avete qualche bisogno impellente in questo istante, di essere visti, riconosciuti, amati, tutte le varie solite... Ok, questa posizione di assenza di bisogno è l'unica posizione sana con quale potersi muovere nel mondo, per evitare che le mie relazioni siano un negozio, nel quale io ti do perché tu mi dai, no, sono in compravendite tutte le volte, per far uscire i nostri desideri, per far veramente capire cosa vogliamo, se noi riusciamo a stare qui e entrare e permettere a questa condizione naturale che ha un'assenza di bisogno di muoversi, iniziamo a sentire i nostri bisogni, i nostri piaceri, cosa ci piace e cosa non ci piace, iniziamo a sentire i nostri desideri che non saranno più ossessivi e compulsivi, che ci sentiremo bene solo una volta soddisfatti, ma diventeranno un motore che ci muovono, perché non sono cascati nel vuoto di un bisogno non soddisfatto, a quel punto possiamo ritrovare con i nostri desideri quel fuoco e la nostra forza interiore, quella forza interiore che ci dà il coraggio di amare e amando siamo pronti a guardare negli occhi qualcuno e sentire la verità, dire la verità, quando noi sappiamo dire la verità possiamo vedere anche un po' più in là, anche un po' più in là della realtà, possiamo finalmente vedere la realtà libera da quello che pensiamo, l'illuminazione è sostanzialmente questo, vedere la realtà senza che ci sia un filtro mentale, quando noi vediamo la realtà, non più come lo specchio perché lo specchio si è rotto, possiamo veramente connetterci e capire che siamo uno, c'è un'unica coscienza che sta conversando con se stesso, perché gli piace, perché gli piace, perché gli piace sperimentare questa cosa, quindi bisogna stare presenti, no bisogna sentire le proprie emozioni, no è meglio trovare la propria forza, no devi amare perché è importante amare tutti, no devi sempre essere nella verità, no guarda il mondo più in là, quello spirituale, no connettiti a te stesso, no tutto, non c'è una cosa da fare, tutto si fa dal momento che si ritorna qui, la guerra è finita, non c'è più bisogno di lottare, stiamo muovendo da uno stato di coscienza a un altro stato di coscienza, siamo qui per riconoscerci, quindi per andare al di là, per riconoscere che siamo quello spirito e non questo io mentale, fisico, emozionale nel quale ci siamo identificati fino adesso, piccolo, che ha paura, che ha bisogno, che da solo non ce la fa e questo stato di coscienza dal quale noi ci stiamo allontanando, non perché leggiamo i libri, ma perché sta accadendo, viene chiamato ego, che ha un sistema di identità basato sul conflitto, quindi per migliaia di anni l'essere umano si è mosso nel conflitto, aveva una struttura fisica energetica per il conflitto, la volontà era l'unica cosa che contava, sperimento, saggezza e amore attraverso la volontà, se vuoi puoi, vuoi studi, vuoi ami, promesse di matrimonio prefabbricate, anche magari dettate all'amore, ma poi dettate più dalla volontà che dall'amore, perché devi essere così, rinuncia alla fedeltà all'amore per il dovere e quindi siamo passati in questo nuovo paradigma che è l'amore è quello che conta, sembra una roba new age, non lo è, cioè io posso fare una cosa sia, io sono qua perché amo, non sono qua perché voglio, frequento una persona perché amo e una volta che tu ami è chiaro che dici la verità, ti importa della persona, mi seguite? Non c'è più un dovere e quindi anche studio per amore, non studio per volontà e quindi tutto questo sistema sta piano cambiando, sono nuovi paradigmi, come possiamo continuare questo paradigma in un mondo vecchio? Chiaramente dando per buono un nuovo paradigma, cioè iniziando a vivere completamente immersi lì, comunque questa è l'informazione, la guerra è finita, quindi non siamo più qui per combattere, siamo qui per essere consapevoli di, coscienti di, del fatto che siamo coscienza. prima domanda, una relazione d'amore finisce veramente? Quando si capisce che è finito? Come usare questa esperienza per evolvere? Mannaggia sono già tre queste, una relazione d'amore finisce veramente? Ovviamente chi mi ha scritto questa domanda la risposta è sì, perché per lei è finita o per lui è finita. Dal punto di vista fisico, duale, la relazione d'amore finisce, come inizia, finisce, perché o non è mai iniziata o se inizia necessariamente finisce. Vuol dire che la relazione d'amore in questa prospettiva che cos'è? Quella persona soddisfa quelle condizioni che io ho posto per amare qualcuno, quindi ho un amore condizionato, che è l'amore quello, cioè quell'amore filtrato, c'è un amore universale che ci attraversa e noi mettiamo delle condizioni. Abbiamo conosciuto l'amore condizionato dei nostri genitori che ci amava la condizione di, condizione che facessimo questo, studiassimo abbastanza, bla 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 bla, e quindi noi questo conosciamo, quindi questo tipo di relazione d'amore finisce. Quando si capisce che è finito? Quando ti fai questa domanda, penso. Il dubbio già ti deve far capire questo. Come usare queste esperienze per evolvere? Non scappando. Non c'è un modo diverso di far fruttare una relazione che è finita e finita, ok? Su quanto è possibile recuperare le relazioni ognuno può dire la sua, ognuno può avere la sua esperienza, sareste più voi a dovermi dire la vostra. Io credo che una relazione quando finisce è finita. O rinizia completamente da capo con nuovi paradigmi, come se due persone non si conoscessero perché si rincontrano a una frequenza più alta, quindi più leggere, quindi sono liberate prima di impegnarsi di nuovo, se no il loop è uguale. Mi seguite? Quindi per impegnarvi prima liberarvi. Molto semplice. Come usare questa esperienza per evolvere? Appunto per questo. Usare tutto quello che è accaduto per liberarti, per vedere i tuoi attaccamenti, per vedere tutto quello che non hai sbagliato, tutto quello che non vedevi prima, perché errori non è che ce ne sono. Quando tu sei in una relazione, ti comporti in un certo modo, hai degli attaccamenti, se ce li hai, ce li hai. Non hai scelte in quel momento. Ti sembra di averla dopo che la storia è finita, guardi indietro e dici, che stupido. Beh grazie, ora. Prima però non ce l'avevi la scelta. Luca, sono davanti a una scelta importante e non riesco più a capire cosa conta davvero per me. Come affrontare questa scelta al meglio? Ovviamente non è possibile. Ci sono diverse prospettive di questa domanda. Sono davanti a una scelta importante e come sempre davanti a una scelta importante noi ci troviamo in difficoltà, perché le scelte importanti creano dubbio e il dubbio oltre a essere, come un video che ho fatto poco tempo fa, la possibilità, la possibilità che attendiamo, diciamo, l'autorizzazione di qualcuno, il permesso di qualcuno per fare quella scelta, può essere anche il fatto che noi abbiamo preso una scelta già prima di essere di fronte a questa. Cioè abbiamo preso una scelta chiara, che è quella di non sbagliare. Se io faccio questa scelta prima, di per sé la do già, inconsciamente l'ho già presa, l'ho già messa nel cassetto che è, Luca, non sbagliare. Senza sapere, questa scelta mi guida. Mi seguite? La scelta di non sbagliare, che è già fatta, ogni volta che mi trovo di fronte e ho la possibilità di fare una scelta, non riesco a scegliere perché non capisco cosa voglio. Non è che non capisci cosa vuoi. Se è così, c'è una turbolenza così forte come in aereo, che non riesci più a stare in piedi. Quindi sicuramente il mio primo spunto potrebbe essere, lascia per un istante questa scelta, rinuncia, slega la scelta anteriore che è quella di non sbagliare, capendo che non puoi sbagliare. Perché lo sbaglio è sempre relativo a qualcosa che è legato alla società. Se tu ti limiti al fatto che se tu sei tu, la scelta la fai tu, ti sbagli rispetto a cosa? Se l'hai fatta tu, non ti sei sbagliato, perché sei sempre tu a scegliere. No, ma è sbagliata se sento male. No, se senti male vuol dire che sei vivo. Non esistono scelte sbagliate. Sarebbe bello rendersi conto di questo. Non esistono scelte sbagliate. O meglio, quello che noi reputiamo sbagliato, come piace dire a me, a volte sbagliare è la cosa giusta da fare. Quello che reputiamo sbagliato, di aver fatto di sbagliato, probabilmente era l'unica possibilità. Era l'unica possibilità. Come possiamo dire che abbiamo sbagliato? Se quando abbiamo fatto quella scelta era l'unica possibile. No, potevo scegliere destra o sinistra, io ho scelto sinistra invece che destra. Perché tu vedevi solo quella. E quello è la capacità di creare sufficiente spazio per riconoscere l'innocenza di questo apparato psicofisico, di questo piccolo io e non di quello spirito del quale abbiamo parlato prima, presente, è capire che il corpo che stiamo usando è pieno di densità e fa del suo meglio. Come possiamo non amare questo momento, questa innocenza? Perché è pura innocenza. Quindi la seconda parte è non riesco più a capire cosa conta davvero per me. Ovviamente non lo puoi sapere. Se tu vivi con la paura di sbagliare le scelte non sono sulla base di quello che tu senti, ma sulla base di quello che potrebbe accadere. Mi seguite? Se il mood è questo per tanto tempo, completamente perso. Sei completamente perso. Quindi davanti a una scelta importante, rinuncia alla paura di sbagliare, rinuncia alla scelta che hai fatto che è quella di non devo sbagliare e ritorna in contatto con te. Come affrontare questa scelta al meglio? Così. Come faccio a superare il dolore del tradimento? Ah, e a togliermi il pensiero che possa accadere nuovamente e andare avanti senza che questa parentesi rovini il mio rapporto. Cosa vuol dire? Che questa persona è stata tradita, però sono rimasti insieme. Mi seguite? L'unico modo per superare il dolore del tradimento è togliersi il pensiero, anche perché è il dolore stesso che regge il pensiero. Tutti i pensieri compulsivi che abbiamo sono dati dal fatto che io non sto affrontando, non sto sentendo quello che sento. Il pensiero, l'energia del pensiero è retta dal rifiuto, dalla sensazione stessa. Comprimo la sensazione che non voglio sentire e impregna la mia mente di quei pensieri. Vi faccio un esempio sulla rabbia. Sono arrabbiato, non voglio sentire questa rabbia, perché in questo momento non ci sta o socialmente è sbagliata, la comprimo e inizio a vedere un sacco di pensieri di rabbia molto peggiori della rabbia stessa. Prendo, parto, spacco, schiaffi, non l'ho che mai più, basta. E poi il giorno dopo magari sei di nuovo lì. Mi seguite? E' mai capitato? Quindi come faccio a superare il dolore del tradimento e togliere il pensiero che possa accadere nuovamente e andare avanti senza che questa parentesi rovini il mio rapporto? ritorna al tuo sentimento. Pulisci tutto per un momento e ritorna a connetterti al sentimento che è il più profondo di tutti. Ami o no? Ami o no? No, non posso amare perché... No, 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 non è che non possa amare, perché l'amore è sotto a questa parentesi. Quindi bisogna andare all'amore. Se dopo, al di là della parentesi, non trovi niente, beh, è già ovvio. Ma quell'amore c'è. Quindi fare in modo di soli, aiutati, di ritornare sempre... Quando si ha un dubbio in una relazione, bisogna sempre ritornare al sentimento. Al sentimento primario, il primordiale, quello che lega, come dice, come si dice in alcune tradizioni, questo filo rosso che ci lega. Questo è fondamentale. È chiaro che abbiamo paura. Non è che abbiamo, non sappiamo come fare, perché la verità, come dico sempre, non è, il problema non è trovarla la verità, il problema è ammetterla. Perché non tutti hanno voglia di andare a vedere che non va più bene questa relazione. Non tutti hanno coraggio. Riconosco che ho paura di innamorarmi. Accidenti, oggi tutte le relazioni. Vorrei tanto ma non riesco. Il passato mi condiziona troppo. Vorrei due parole al riguardo. Dunque, rispetto alla scaletta che abbiamo fatto prima, l'amare arriva dopo il ritrovare la propria forza, che arriva dopo la capacità di sentire quello che sento, che arriva dopo l'intenzione chiara di essere qui, di trasformare di nuovo l'unico posto dove passeremo tutta la nostra vita, cioè il momento presente, in casa. Quando noi ci troviamo nella paura di innamorarci vuol dire che siamo in una condizione di non sono presente, non sento quello che sento, ho uno scarso potere personale perché la paura comprime il centro del mio potere e non ho forza. E quindi spero che tutte queste sensazioni di sicurezza, l'essere presente, di essere accettato e ascoltato, sentire le emozioni, di essere riconosciuto il centro del mio potere, me lo dia qualcuno che mi ama. Mi seguite? Avete visto il gioco? Io mi sento in una situazione di bisogno, non mi ascolto, non mi rispetto e non mi riconosco, ho paura di innamorarmi, non è che poi non sei capace, non puoi fisicamente, al massimo non è che ti innamori, ti ossessioni per qualcuno che si prende cura di te e ti dà quello che tu non ti stai dando. Wow che fatica! Però quante relazioni sono così? Quante relazioni si basano sull'amore? Quante escono dall'idea negozio? Ah sì perché gli altri? No no no, che gli altri? Tutti? Quello è il coraggio, quello è il coraggio. Quindi la paura di innamorarmi sostanzialmente è questa, è l'incapacità di muoversi da sé, una persona che ha paura di innamorarsi deve ripartire da sé, in questo modo, non è teorico, è pratico riscoprire questo momento, riscoprire questa assenza di bisogno che tutti per un attimo abbiamo sperimentato e possiamo e dobbiamo, è nel kit della persona del nuovo mondo, riuscire a vivere queste cose, non sono più teoriche, magari 50 anni fa lo erano, adesso quello che stiamo facendo non è cercare la verità come dicevamo prima, ma metterla, cioè noi siamo nel paradiso così, che brutto sto inferno, che brutto, dov'è il paradiso, dov'è il paradiso, togli la mano, no 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 no, dov'è l'inferno, dov'è il paradiso scusate? È qua, è qua, stiamo facendo di tutto per non vedere. Lo spazio che si crea mentre parliamo di queste cose, io non vi sto dicendo niente di nuovo, no? Io quello che sto facendo è far risuonare qualche informazione in voi, giusto? Vi sto dicendo qualcosa che vi ha stupefatto? Sto mettendo semplicemente in ordine informazioni che voi già avete, perché noi non siamo più qui per imparare, non siamo nell'epoca della saggezza, siamo nell'epoca dell'amore, quindi siamo nell'epoca dell'autoriconoscimento, quindi noi stiamo solo riconoscendo informazioni. A volte sono discorsi un pochino direttamente più legati all'aspetto spirituale, quindi allo spirito che siamo, a volte alla materia, quindi la coppia, lui, io, lei, la gelosia, però il punto ed arrivo è sempre quello, tu. Ho tanta voglia di innamorarmi, cosa vuol dire? Ho tanto voglia che qualcuno faccia quello che non faccio io per me. Innamorarsi è una cosa che accade, che accade se lo lascia accadere, se lo lascia accadere, ovviamente. Cioè dal momento che tu ti metti in una condizione di aprire gli occhi da aperti, non da chiusi aperti, da aperti a aperti, guardi negli occhi una persona, per quanto rumore ci sia qui, tu lo sai, che lì c'è qualcosa, c'è un momento da passare insieme, c'è un pezzo di strada da fare insieme, corto, lungo, non importa, c'è un pezzo di strada da fare insieme. E lo fai. Ma ho paura, sì, certo, fa sempre paura, ma fa paura non perché, per un motivo diverso, se non il fatto che quando ami ti allarghi, diventi grande e quando ti allarghi devono saltare dai paletti, per forza. Ciao Luca, credo profondamente che tutti abbiano un talento da offrire, ma non ho idea di quale sia il mio. C'è un modo per scoprirlo? Sì, tutti abbiamo qualcosa da offrire, tutti, tutti, non c'è una persona che non abbia qualcosa da dare. È ovvio, come non c'è un fiore che non abbia un senso, non c'è niente, come abbiamo detto prima, che non abbia effettivamente il suo senso. L'essere umano, come qualunque altro essere, ha delle caratteristiche. A livello di coscienza collettiva, l'essere umano ha dei doni, dei talenti da offrire. In un certo senso potremmo riassumerlo così, lo scopo di adesso di un essere umano è quello di ritrovarsi, riconoscersi, riconoscersi, non conoscersi, chi sono io, devo conoscermi, no, 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 è un riconoscimento, perché già sei chi sei, non devi fare nessuno sforzo, devi solo riconoscerti e una volta che questo processo di riconoscimento è in atto, automaticamente lo sai, condividi. Come fai a saperlo? Vi dico semplicemente la mia esperienza. Una volta che tu inizi a indagare e smetti di essere chi non sei, inizi a vedere che emergono delle passioni. Qualcosa ti appassiona, qualcosa ti appassiona e ti viene bene, qualcosa ti appassiona e fai cagare, ok? Prendiamo quello che ti appassiona e ti viene bene e lo continui. Continui anche se vuoi la passione che ti viene male, però ti piace tanto e lo fai. Questo movimento inizia a farti vedere cosa sai fare. Sei a tavola con gli amici e chiacchieri e ti vengono sempre fuori gli stessi argomenti e ti piace un sacco, ti dovrebbero uccidere per parlare. Ma dici, ah quasi quasi, potrebbe essere questa cosa qua. Io mi ricordo che ho preso i tre amici, li ho chiusi in una piccola stanza di un alberghetto, all'epoca ero a Sanremo e gli ho detto che adesso voi state qua tutto il giorno, non ve ne potete andare e ascoltate quello che ho da dirvi. E gli ho fatto per un giorno di un pippone micidiale sull'interiorità. Mi ricordo che loro sono andati a pranzo, poi a luna, luna e mezza. Io ero così eccitato, ho detto no, 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 sto qua. Mi ricordo che mi sono affacciato alla finestra di questa stanza di hotel, dava sul mare, bellissimo, e mi ricordo che c'era un bel sole, c'erano queste nuvole davanti a me che lasciavano uscire quel raggio di sole che sembra tipo Dio, no? Nell'immaginario c'è un po' questa cosa, il raggio di sole è un po' Dio. E in quel momento, forse preso dall'eccitazione, preso dalla gioia totale che stavo vivendo, l'ho presa un po' come un segno. Quindi la sensazione è come è stata, devi fare quello. Cioè è come se la vita mi dicesse, io attraverso di te voglio questo. E io ho detto, va bene. Ovviamente ostacoli a mille, ostacoli a mille. Però iniziando l'indagine scopri cosa ti viene, scopri cosa hai da dare. Scrivere, scrivere mi viene semplice, ma soprattutto il tipo, il modo di scrittura. Da quel momento ho smesso di copiare cosa che prima facevo. Per esempio, non puoi trovare il tuo talento copiando, perché non puoi iniziare a muoverti su informazioni o copiando la strada di qualcun altro. Se non ti viene, stai fermo e zitto fino a che ti esce qualcosa. Non copiare perché devi farlo. Ah, io parlo bene, devo preparare una conferenza. Però non so cosa dire. Aspetta che vado a prendere qualche libro, qualche appunto. No, 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 no. Se non ti viene, stai fermo e zitto, aspetti. Qualcosa ti esce. Quello è il talento. È la capacità di attingere le proprie risorse dal momento che siamo capaci di muoverci all'interno di noi. Siamo presenti e sentiamo. Già solo il fatto di, anche solo se noi ci fermassimo più o meno al nostro potere personale, senza necessariamente entrare in un mondo d'amore completamente aperto e incondizionato fino all'uno, senza essere già i primi passi nell'essere presente o nel sentire il tuo talento esce fuori. Quindi non ho idea di quale sia. C'è un modo per scoprirlo? Sì. I primi due passi. Stare presente e sentire quello che senti. Guardarti. Osservati. Osservati. Se non sai neanche cosa ti piace e cosa non ti piace. Se cosa ti dà piacere e cosa non ti dà piacere. Ci sono persone che hanno così paura del piacere, sicuramente sono state aiutate da un sacco di credenze o di idee, ma il piacere diventa tanto piacere succederà un casino. Succederà qualcosa. Tanto piacere non posso. Cosa ti fa piacere? Cosa ti dà piacere? Cosa non ti dà piacere? Chiediamoci questa cosa qua. Andare in giro e iniziare a tocco un materiale, mi piace o non mi piace. Mi piace parlare. Quando la sensazione che ho dopo che parlo è che sto meglio o che sto peggio? La sensazione dopo che disegno, dopo che scrivo, dopo che ho contatti con le persone, dopo che finisco una riunione, dopo che faccio divertire dei bimbi, dopo che aumento o diminuisco? Sentite cosa vi sto dicendo, capite cosa vi sto dicendo? Sembra difficile, ma in realtà anche quando si chiacchiera con una persona, si capisce se dopo la chiacchierata stai meglio o peggio, se la tua energia è più alta o meno. Vi è mai capitato? Ok, fatelo nella vita. Fate dell'attività e guardate. Ascolto la musica, scrivo musica, suono, canto. Poi tutti abbiamo mille cose da fare, mille cose da fare. Io faccio tremila cose. Scrivo, parlo, suono, canto, giro, faccio mille cose. Perché una volta che tu sei dentro capisci che non ti puoi fermare. Poi è chiaro che il filo conduttore è sempre il trasmettere quello che ho dentro, che sia suonando, cantando, scrivendo, parlando, sempre quello. Però è viaggiando, ma anche se tu ti sei trovato, ti sei riconosciuto, tu puoi anche essere seduto su un aereo e fare del bene. Mi è capitato che una persona si alzasse qualche giorno fa sono sceso dall'aereo e mi ha detto, ma lo sa che stando vicino a lei mi sono sentita meglio. L'ha detto in spagnolo, mi allegro, sono contento. E quindi capisci che non devi fare niente. Poi le attività che ti piacciono le fai. Quindi il talento, sostanzialmente, ritornando, se no poi vado troppo sul romantico, ritornando qui, il talento da offrire, ma non l'idea di quale sia. C'è un modo per scoprirlo? Sì, guardati. Ho un oggetto e non so come usarlo. Osservalo, usalo, muovilo, sbattilo, testalo, assaggialo, mordilo. Come puoi sapere? Immaginate che vi do un oggetto e voi dovete capire cosa farvene. Cosa fareste? Ditemelo. Se stai sentendo, prova. Capite che è così semplice a volte che troppe parole diluiscono. Sei, tu dici di sentire le emozioni e di non soffrirle. Sì, ma che differenza c'è? A me sembra di sentire, ma continuano a ripetersi. Potresti carire il concetto? Grazie. Tu dici di sentire le emozioni e di non soffrirle. La mi invito è sempre sentite e non soffrite. C'è una grossa differenza fra sentire e soffrire. Soffrire è qualcuno che mi picchietta qui, continua a picchiettare e io parlo con quello vicino. Che palle sto qua. Continua a picchiettare. Lo senti? Sì, sì, lo sento, lo sento. Che palle questo qua continua a picchiettare. Questo è soffrire. Sentire è che c'è? Più semplice di così, giuro, non posso. Mi seguite? Bussa, sto in casa, mordendomi le unghie perché continuo a bussare. Bussa, apro. Sentire vuol dire andare giù e permettere a questa emozione di parlare. Ovviamente l'emozione non ha una parola. Noi siamo abituati al linguaggio e quindi un pensiero che parla ci sembra più importante di un'emozione che scorre. No, l'emozione che scorre è un'esplosione di energia. Questo è sentire. Ora, guardate cosa avete dentro. Osservate com'è il vostro stato in questo momento. Sto toccando dei temi densi e molto velocemente, quindi impossibile che il vostro corpo sia completamente rilassato. la sentite la densità? Sì. Osservatela per un momento. Lasciate questa densità essere esattamente com'è. Non la vogliamo mandare via. Le diciamo solo sì. 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 Per una volta. Diciamo sì. Bussa e noi diciamo sì. Che succede? Sì. Niente da cambiare. C'è? È al suo posto. Diamo il benvenuto a tutto. Oh, guarda. Un po' di ansia. Sì. Sentire solo questo. E dire sì a quello che c'è. Non ti piace? Va bene. Cosa vuoi che sia? Un po' di sensazione. Un po' di chiusura. Se sento una chiusura alla gola a volte ci sentiamo quasi soffocare. Se fosse un uomo che ti prende per baciarti o una donna che ti ti prende per darti un morso. Ti piacerebbe? La sensazione fisica noi la interpretiamo. È solo una sensazione fisica. Non scappiamo. Non c'è più bisogno di scappare. Il risentimento è questo. Dice. A me sembra di sentire ma continuano a ripetersi. Ovviamente. Si ripete quello che non osservi. Poi, attenzione, abbiamo un corpo. Se gli do una martellata oggi e una martellata domani senti male. Sia oggi che domani. Quindi non è che può cambiare effettivamente la tua condizione umana. Ma la migliora decisamente perché diminuisce quel 90% di risentimento che è quello che ci disturba la giornata. Risentimento vuol dire che quella densità o quell'ansia che noi sentiamo è sempre la stessa. Sempre la stessa. Quella gelosia è sempre quella. Quella paura è sempre quella. Sentite la differenza fra sentire e soffrire? Quindi qualunque disagio sentiamo è proprio il fatto che noi stiamo incrociando. Non c'è la possibilità di incrociare un dolore senza cadere in noi stessi. Perché è proprio quello che ci separa dal tappeto di pace che siamo all'idea che noi abbiamo di noi. C'è un po' di uno strato emotivo. Più questo strato emerge e ci inonda i pensieri, più noi stiamo cadendo dentro di noi. E quindi se abbiamo il coraggio di tuffarci in questa emozione, quindi di sentire e non di soffrire, aumenta lo spazio per ritornare presenti ogni volta che noi lo vogliamo. nell'altro caso la nostra mente ci dice senti un po' di tristezza, fai di tutto per non sentirla. Cioè non andare dentro, vai fuori e se incontri qualcuno triste, animalo. Digli che tutto passa, che va bene, che non deve essere triste, allegro. La tua rabbia? Non attraversarla. fuori. Scappa. Più veloce che puoi. Abbiamo un sacco di cose che possiamo fare per non sentire questa rabbia. E se trovi qualcuno arrabbiato, calmalo. Evitalo. Qualche settimana fa, grazie a un tuo post, mi sono reso conto che la mia vita si appoggia su piccole bugie e manipolazioni. Questo è stato un duro colpo, so che la verità mi salverà. Ma ora mi trovo tra il mondo delle bugie che non voglio più dire e della verità che non ho più il coraggio di esternare. Come posso fare? Questa è una domanda lunga che potrebbe essere riassunta in. Mi senti in colpa a dire bugie, ma ho paura di dire la verità. Cioè mi senti in colpa per dire bugie e mi senti in colpa per dire la verità. È una posizione di impasse, è una posizione difficile. Non so se vi è mai capitato di essere nella condizione di non voglio più mentire, però la verità come faccio a dirgliela? Vi è mai capitato? È una bella condizione questa, perché è veramente un limbo. Un limbo. Puoi muoverti da una parte, ma indietro non puoi tornare. Dici, vabbè, dai, ancora una bugia la dico, ma non puoi più tornare indietro. Dall'altra parte c'è affrontare la verità. E affrontare la verità, ne parlavamo stamattina, è una delle cose più difficili che ci siano. Quante emozioni sono una conseguenza della paura di affrontare la verità? Prendiamo la gelosia. che collegamento c'è fra la gelosia e la paura di vedere la verità? Se io non voglio o non permetto, perché a causa della gelosia, che quella persona faccia quella determinata cosa, per esempio il mio uomo vada una settimana a Cuba, o la mia donna vada con le amiche a, non lo so, in Australia, è perché temo di vedere quello che lei potrebbe fare, o lui potrebbe fare, no? Ad esempio potrebbe essere, lui va a Cuba e torna con 5 perizoma in tasca nella valigia, no? Io non voglio che lui vada a Cuba proprio perché non voglio confrontarmi con questa verità. Ve la faccio telenovelas come esempio, ma per capirci. Io controllo perché non voglio vedere la verità. La verità, come abbiamo visto, sta un passo più in alto dell'amore, perché la verità è un atto, è un'espressione d'amore, giusto? Io non posso dirti la verità se non amo, non posso. E dire la verità non è, ah io dico quello che penso, perché quello che pensi a volte non interessa a nessuno, perché è troppo lontano dalla tua verità. Quello che pensi è quello che pensa qualcun altro, è quello che ha pensato qualcuno prima di te, tu l'hai assorbito e io dico sempre quello che penso. Puoi anche dirlo quello che pensi. Se ti viene chiesto lo dici, se non ti viene chiesto, sconsiglio di dirlo. Anche perché un'opinione data non richiesta è veramente energeticamente un buco. Quindi non puoi educarti alla verità senza amare, senza conoscerti, senza sentire e senza essere presente. Non puoi, non puoi. Come sempre si ritorna qui. E non è un processo molto difficile, è un processo naturale che può essere accompagnato per farlo accadere. Quindi non è che devo prendere il punto per punto e iniziare a fare un'opinione. Ok, devo stare presente? Sono presente? Beh, sì, dai. Sento quello che sento? Sì, fa un po' schifo. Lo sento? Mi sento forte? Beh, insomma, amo qualcosa? No, dico la verità, non ce la faccio. Manca proprio il supporto. Mi seguite? Quindi dire la verità è un atto d'amore. Se questa persona non riesce a più dire bugie, perché effettivamente le bugie sono sortilegi, le bugie creano realtà parallele, se io ti mento sto creando una realtà parallela all'interno del quale la bugia che io dico è vera. Quindi mi disconnetto dal mondo reale per creare un mondo fittizio e dovrò lavorare molto per tenere in piedi tutto quello che è collegato a questa bugia, piccolo o grande che sia. Quindi a volte noi ci troviamo da figli manipolati dai nostri genitori e da genitori a manipolare i figli, da amici a essere manipolati, da amici a manipolare. E un giorno ci svegliamo e diciamo non ho più le idee chiare. Sapessi quante ne hai dette e quante ne hai sentite. Non avevi la possibilità di fare altrimenti perché la verità è difficile da ammettere. Magari qualcuno te la dice la verità ma tu non la senti, non la senti, non hai l'orecchio per sentirla. Non è che l'altro non te l'ha detta, magari te l'ha anche detta, però per comunicare con te alla fine hai dovuto scendere. La bugia è tutto inconscio, non è che l'altro è saggio e tu no. È tutto un movimento inconscio. Inconscio vuol dire del quale non siamo coscienti. E quindi a volte la bugia viene detta non solo perché uno non è capace di dire la verità ma anche perché nel rapporto a due c'è un orecchio che non sente quella frequenza perché la verità ha una frequenza ben precisa. La senti la verità. La senti la verità. quindi il mio consiglio è fai un passo indietro e renditi conto che ti sei dimenticato di amare. Credo che sia un uomo questa persona. Ti sei dimenticato di amare. Perché non puoi dire la verità senza amare. Chiaramente queste domande sono generiche ma sono collegate per chi le scrive a un contesto, un contesto specifico. Quindi il mio invito è in quel contesto nel quale tu dici, credi, non poter dire né più la bugia né più la verità, in quel stesso contesto a quella precisa persona guarda negli occhi e ritorna ad amarla. Perché se no la verità non puoi dirgliela. E se lo fai la verità esce sola. Da sola. Esce da sola. Capisci se veramente stimi o ami una persona perché arrivi lì anche dicendo ora gli dico una balla e poi gli dice la verità. È ovvio. È possibile star bene da soli? Ne sento parlare ma a volte credo sia solo teoria. Geniale questa domanda. Noi in realtà siamo animali sociali. Punto esclamativo. È possibile star bene da soli? Sì certo che è possibile stare bene da soli. È possibile stare bene da soli ed è fondamentale stare bene da soli. Cosa vuol dire? Noi adesso stiamo muovendo cose e riatterreremo alla fine. Però siamo partiti decollando da noi. Siamo muovendo, ci stiamo muovendo, muovendo tante informazioni dentro e riatterreremo. Quindi finiremo la serata di nuovo dentro. Ma all'inizio eravamo insieme ognuno con se stesso. Giusto? E c'era una situazione di pace. Possiamo definirla così? Una relazione è questo. Io in pace, tu in pace. Insieme. Questo è uno stato di io non ho il bisogno che ti ciuccia, tu non hai il bisogno che mi ciuccia e si ritorna alla stato primordiale di una coppia che è quella di creare. Ci si mette insieme per creare. 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 È l'unico intento per il quale il maschio e le femminili si uniscono. È creare. Si è insieme, si ha una vita, si condivide e si crea. Quindi si crea questa nuova entità più potente che crea. Crea arte, crea immagini, crea parole, crea famiglia. Crea. Seguite? Una coppia che non crea è una coppia nel bisogno. È una coppia di sopravvivenza. Quindi è possibile stare da soli? Sì. Certo che è possibile. È possibile. Ne sento parlare. Io non ne sento parlare. Io lo vivo. E attenzione a... Ah, io da solo, guarda, sto benissimo. Già sentite, no? Cosa vuol dire? Finché nessuno mi rompe le palle, io guarda, sto da Dio. Il problema è... No. Il problema non è l'altro. Noi in realtà siamo animali sociali. Certo, ma non è in realtà, cioè non è collegata alla prima parte. Quindi? No. Sì, possiamo stare bene da soli. Sì. Anche perché se osservi una... Se una persona fosse qua e io creo una coppia, siamo comunque separati. Anche se fisicamente, permettetemi l'immagine, io sono dentro l'altra persona. Comunque c'è separazione. Mi seguite? C'è l'accoppiamento. Va bene. Però c'è separazione. Siamo sempre individui. la vedo proprio a livello grafico. Quindi non solo è possibile stare da soli. È l'unica possibilità. Siamo tutti qui da soli. Siamo tutti qui da soli e insieme. Ma prima da soli. Cosa ne pensi del pensiero positivo della legge d'attrazione? Sono teorie, teorie, trascritte in libri. Il pensiero positivo, diciamo, non è una teoria specifica, ma è semplicemente questo invito che alcuni in diversi modi fanno all'essere umano e all'individuo dicendo tra pensare male e pensare bene, tu pensa bene. Che ti fa bene? La legge d'attrazione invece è proprio un filone chiaro, c'è un libro specifico e racconta del fatto che il tuo pensiero crea la realtà e quindi tu sulla base di quello che pensi attiri e quindi si collega al primo. Quindi già che ci sei pensa bene che magari ti va bene. Allora, cosa ne penso? Sarebbe sempre la mia opinione contro l'opinione di altri. Cerco di darvi quello che sento adesso, la legge d'attrazione. Funziona? Funziona sulla base del fatto che tutto quello che io voglio ce l'ho. Lasciate andare per un momento l'arroganza di questa affermazione, che potrebbe averne molta, tutto quello che voglio io ce l'ho. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che riconosco che tutto quello che io ho in realtà me lo sono cercato, sapendolo o no. La legge d'attrazione non è una cosa che tu metti in atto domani che fai l'esercizio. La legge d'attrazione è qualcosa che tu metti in atto sempre. È una legge. È una legge, se così possiamo chiamarla. Cosa vuol dire? Che è sempre in atto. Non c'è un momento nel quale ti accade qualcosa nella vita che non sia qualcosa che tu vuoi. Non ti trovi di fronte a una persona senza che lo voglia pure tu. Non ti trovi senza quella persona, senza che in un certo senso tu ne abbia un vantaggio. Perché come si dice la vita non ti toglie le cose, la vita ti libera di cose. E tutto quello che tu vuoi ce l'hai. Dal momento che tu ti rendi conto che tutto quello che vuoi ce l'hai e tutto quello che hai in realtà lo vuoi davvero, ma a me fa schifo la mia vita. Ottimo! Impariamo, reimpariamo a volere, reimpariamo a desiderare. Come? Stando presenti, riconoscendo che non ci manca nulla per il momento, esattamente dove siamo e a quel punto che non ci manca nulla, tutto quello che non ci può dare il mondo esterno, accettazione, rispetto, tutto quello che dicevamo prima e a quel punto puoi iniziare a sentire come dicevamo prima, cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa desideri, cosa non desideri. È chiaro che più ti conosci più inizi a desiderare qualcosa di tuo. Se desideri qualcosa di tuo, la tua vita apprende, seguendo questa legge incessante di attrazione, inizia a muoversi esattamente come vuoi tu. Perché un conto è attrarre la lezione per lo sviluppo e per l'autoriconoscimento. Una volta che l'autoriconoscimento è avvenuto, la maggior parte di accadimenti sono per uno sviluppo. Accade la persona, tu ti riconosci e arriva la persona che ti offre di parlare in pubblico e raccontare le tue cose o di scrivere. Quindi sono tutti accadimenti che sono a favore della tua condivisione. Non sono più per sanare un trauma perché tu sei già uscito, sei già uscito e a quel punto è proprio un implementare la tua possibilità di dare e di condividere. Quindi il pensiero positivo invece è una cagata. È una cagata perché il pensiero positivo è come dire ho un burattino, che ne dici se gli metto un fiocchetto rosa che magari diventa un po' più carino? Ma chi se ne frega? Tanto c'è una mano che lo muove, un braccio che lo muove, una spalla che lo muove, una persona che lo muove. Se quello che hai dentro è disfunzionale puoi mettere un fiocchetto al pensiero, ma tanto la legge dell'attrazione si basa su quello che tu sei, non su quello che tu pensi. È chiaro che il pensiero crea la realtà quando? Quando dentro c'è pace. Se c'è disfunzione no. È come leggere la legge dell'attrazione, pensare che quello che dicono o quello che c'è scritto si riferisca davvero i pensieri è come leggere un manuale di guida. Frizione, marcia, avanti, indietro, perfetto, la chiave lì, volante, frecce, tergifistallo, specchietto, navigatore, perfetto. E non ti hanno detto che devi accendere la macchina. Cioè sai tutto, ma non hai acceso la macchina. È vero che il pensiero crea la realtà. Ma il pensiero positivo è un riflesso di uno stato interiore. E soprattutto dal momento che lo stato interiore è pace, i pensieri, uno, due, cioè hanno tre, hanno una frequenza molto più lenta, molto più lunga e soprattutto traducono uno stato interiore. Mi seguite? Quindi, leggere l'attrazione è sempre attiva, hai quello che vuoi. Hai davanti chi vuoi, che vi piacciono se avete cambiato idea, l'avete scelto voi. Quindi tutto quello che hai lo vuoi, e tutto quello che vuoi lo hai. Ti piace? Questo è. Ciao Luca, volevo una tua opinione sull'ansia. Perché siamo perennemente afflitti dall'ansia? Bene, non tutti sono perennemente afflitti dall'ansia. Qualcuno ha anche un minuto ogni settimana che non ce l'ha. Cioè è uno stato che in realtà non prende effettivamente tutto il giorno. Però l'ansia è una sola cosa. Essere separati da sé. Questo. L'ansia non è uno stato, nei termini più spirituali, l'ansia è proprio questo, è la separazione da sé. Io non sono presente, sono dove sono, ma la mia mente mi convince che stressandomi, cioè pensando e preoccupandomi a qualcosa che potrebbe succedere, quindi immaginandomi la riunione, immaginandomi quello che accade domani, immaginando cosa potrei dire quando incontro la quella persona. Mi porta là, io in realtà sono qua. Questa tensione che si crea nell'allontanarmi da me si chiama ansia. Una frase, un trucchetto molto utile è questo. Quando tu sei in ansia, dirti questo. Non sono in ansia per quello che penso. Non sono in ansia per l'appuntamento di domani, sono solo in ansia perché sono lontano da me. Questo riconoscimento ti riporta qua. Preoccupazione, ansia, le stesse cose. Non sei in ansia per quello che sta per succedere, sei in ansia perché sei lontano da te. Mi seguite? Provatelo, poi mi dite se funziona o no. Per me è super efficace. Quindi l'ansia sostanzialmente è la separazione da sé. Sono in macchina, sono in ritardo e c'è già un me arrivato, c'è già un me che sta già posteggiando la macchina all'appuntamento con l'orario giusto e io sono ancora qui. Quindi questa separazione crea ansia. Quindi non sono in ansia perché sono in ritardo, sono in ansia perché c'è un me che è già là, invece io sono qua. È un trucchetto proprio nel quale caschiamo tutti. Può essere che cerchi inconsapevolmente storie per farmi lasciare? Quanto siamo noi a determinare le nostre relazioni di coppia? 50%, essendo una relazione di coppia. Ovviamente quelle nel tuo mondo, il 100%, nel concetto proprio di coppia, come sempre rapporto a due. Quindi può essere che cerchi inconsapevolmente storie per farmi lasciare? Certo, ma non c'è dubbio che sia un sì. E non è neanche inconsapevolmente perché uno che mi fa la domanda così non è inconsapevole, no? Quanto siamo noi a determinare le nostre relazioni di coppia? Tanto. In questo caso qui c'è una persona che è cosciente, che cerca relazioni così, ma soffre questo e non lo sente. Cioè bussa, la consapevolezza dice guarda che c'è, ehi, oh, guarda che tu cerchi, ehi, niente, bussa, bussa, bussa e io sto girato. So che inconsapevolmente cerco, certo che lo sai, te lo stanno dicendo da una vita, sì però poi li apro, però adesso fammi capire come faccio a risolvermi. Apri, no, poi li apro, la mente fa così, no? Tu sei in pace, stai bene, ti arriva un pensiero di preoccupazione. Preoccupati, risolvi questa cosa così tornerai in pace. Guarda già lo sono, già lo sono. Mi seguite? Quanto noi cadiamo in questa cosa? Mi dai 50 euro che hai in tasca così li investo e fra due mesi li do a una persona che si compra una cosa, che fa un investimento che forse ci fa guadagnare 55 euro, però 5 mi ritengo io e ti li do 50 fra un anno? Fammi capire, io ti do 50 euro, forse fra un anno non so cosa potrebbe succedere, tu mi li dai uguali? Mi li tengo, siete d'accordo? Io mi li terrei, non te li do. Bene, ogni volta che la mente arriva a chiedervi 50 euro, voi non datele. Preoccupati per domani! No, 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 guarda, ce li ho già in tasca i 50 euro, sto bene qui. Quindi siamo noi a determinare le nostre relazioni di coppia? Sì, non siamo noi, le nostre ferite determinano le relazioni di coppia, non c'è un noi, non c'è un piccolo io che determinano le relazioni di coppia perché sono sbagliato come posso uscire da questo loop, sono le ferite che determinano le relazioni di coppia. quante persone si uniscono per le loro ferite? Io la ferita da abbandono mi unisco con chi ha una bella ferita da tradimento, cioè io divento dipendente di chi? Di chi controlla tutto, così mi tiene sempre sotto controllo. Che fatica! Presenti? Riconoscere che siamo qua e tutto il filone di prima. Quando si sta cambiando direzione si cominciano a fare scelte diverse che paiono a volte azzardate, per non dire controcorrente, ci si trova a vivere stati emozionali forti che per certi aspetti paiono ansiogeni, ma non lo sono. Come affrontare al meglio questi stati che vanno espressi ma senza lasciarsi travolgere? Come vivere lo stupore del cambiamento delle cose che fai e che mai ti saresti sognato di fare? Ci si trova a vivere stati emozionali forti che in certi aspetti paiono ansiogeni, ma non lo sono. Sai come si chiama questa? Felicità. Perché da sola sono meno felice che in coppia? Perché condividere la felicità è bello. Questo è il motivo. Quanto al meno felice l'unico consiglio che posso darti è liberati dell'idea della felicità. Perché quando arriva è così, è travolgente, ti fa paura. attenta al meno felice di. Solo questo. La felicità condivisa è geniale, ma la felicità condivisa, attenzione, non la coppia. È un'altra cosa. Perché la coppia può essere fallimentare. La felicità condivisa no, perché è già felice di per sé. Le due felicità insieme creano. Creano. Ok? Ogni volta che ti ascolto è come se si diradasse la nebbia che mi avvolge e sparissero mille pensieri inutili. Come mantenere nel tempo questo stato di chiarezza? L'unica cosa che si può fare per mantenere uno stato di presenza, uno stato di chiarezza, così come è stato chiamato, è quello di non tenerlo. Purtroppo è quello di non tenerlo. Perché lo stesso desiderio di tenerlo crea già la mancanza. È quello il gioco. La testa, la mente ti dice figata, figata. Mi hai rovinato la vita, adesso arriva figata. Attento, attenta. Questo stato è uno stato che noi stiamo riconoscendo e la nebbia non ritorna mai come prima. A volte peggio. Non peggio perché abbiamo sbagliato qualcosa, perché più spazio c'è, più cose possono emergere. Le sensazioni non sono un po' forti o fortissime. La sensazione è sempre sensazione. Quando qualcuno mi dice sono un po' triste, mi sta dicendo io sento tristezza dentro di me, ma sono lontano. Chi mi dice io sono, sento una tristezza che mi sta superando, vuol dire che c'è proprio qua. È lì. Quindi, ritornando a questo, il passare dei giorni lascia che passino, si apre e si chiude. Puoi fare qualcosa che ti permette di ampliare questo spazio. Se un incontro così al mese crea uno spazio per una settimana, trovati un'altra attività per le altre tre. È abbastanza matematico. Nel senso, poi a volte, però non ti ciaccanire, non ti ciaccanire perché lo spazio si apre e si chiude, è uno spazio di coscienza. Puoi solo caderci dentro. È un po', adesso le campanelle mi hanno fatto venire in mente Cenerentola. Cenerentola è un po' quello che accade qui. Si crea questo spazio che poi a mezzanotte sparisce. Ok, hai questo tempo, fai del tuo meglio. Nel momento di spazio guarda la vita, sentiti presente, di la verità, ama. E vedrai che quando lo spazio si chiude, il mondo intorno a te sarà diverso. Prima che... Poi arriverà il principe con la scarpetta. come uscire da un rapporto di dipendenza? Come ci sei entrato? O entrata? Il rapporto di dipendenza è quello che dicevamo prima, è quello che aveva paura d'amare, no? Che ha paura di innamorarsi. Cioè, non è presente, quindi vive in una costante sensazione di separazione di mancanza. Non sente quello che sente, quindi avrà sicuramente questa persona qua difficoltà a sentire. Avendo difficoltà a sentire, ha un potere personale chiuso e quindi vive la realtà con un po' di paura e fa fatica ad amare. La dipendenza, quindi non si tratta di amore, la dipendenza è aver ancorata quella persona, quell'accettazione, quell'ascolto e quel rispetto che io non so darmi. Quindi come uscire dal rapporto di dipendenza? Dal primo punto. Imparare, ritrovare e reimparare la presenza. Trovare il modo di ritornare qua. E da lì inizia il percorso. È una buona occasione questa, non forte da scappare. Come faccio a far capire ai miei genitori quanto sia vitale per me lasciare un lavoro che non amo per seguire una forte pulsione che mi spinge a partire? Come faccio a far capire ai miei genitori quanto sia vitale per me lasciare un lavoro? Non puoi. Mi dispiace un casino farti questa risposta, ma non puoi. Se mai tu potessi fare qualcosa è quello di dissolvere i tuoi dubbi, che forse qualche dubbio c'è. Di chi è? C'è qualche dubbio ancora. Ricorda che la vita, sei un gioco di specchi, quindi la vita ti sta mostrando qui c'è un grande dubbio, non sai se farlo, ti stai cagando sotto completamente e ah no perché io voglio di sperimentarmi e fare esperienza. Perfetto. Allora non devi convincere nessuno. Se sei veramente convintissima non c'è bisogno che tu convinca nessuno perché spesso ci chiedono di convincerci di qualcosa, io cerco di convincere te di un'idea quando io non sono convinto dell'idea. Facciamo un esempio. Io sono a Milano in questo momento e tu mi dici, no no, sei a Torino tu. Cosa faccio? Ti convinco che sono a Milano? È così ovvio che sono a Milano? Dico, va bene. Ok. È così. Se invece avessi un dubbio, no no no, guarda che sono a Milano, cioè ho il biglietto della metro, lo guardi tu, dici sì sì, no, ma oddio dove l'ho messo? Forse sono a Torino. Attenta, quando devi convincere qualcuno, non sei convinta neanche tu. Siamo ormai estranei. Permetti questa cosa, permetti questa cosa. Ti fa cagare sotto? Sì. Ti dispiace? Sì. Ti dispiace deludere chi pensi sia la fonte della tua vita? Sì. La fonte della tua vita è la vita. Bene. Ti va di sentire quello che senti? No. E invece c'è chi sei per dire che quello che stai sentendo non dovresti sentirlo? Sei nella situazione di poter affrontare un'esperienza o magari vedi una persona che ti piace e in quel momento decidi di seguire la vita che ti sta chiamando. Come puoi affrontare questa situazione con integrità e senza aver bisogno di nulla? Senza tutte quelle idee che possono condizionare questa esperienza? Dunque, quando la vita chiama, non preoccuparti particolari. Questo è ovvio. Che poi tu ti avvicini. In questo caso immaginiamo la scena. Sono per strada, vedo una persona, come dice qui, che mi piace, una donna che mi piace. Il movimento è vado. La paura dice, con le unghie sull'asfalto che mi tiene. Come posso andare senza questo movimento? Non si può. Essere integri vuol dire portarsi tutto dietro. Mi sto cagando sotto, io vado. Arriverò lì e non ho una parola da dire, è così. Quello è un atto di coraggio, quello è un atto di sperimentarsi. Non puoi andare lì senza bisogno di nulla. A meno che tu non vada con tutto. Se tu vai con tutto, quando io vengo qua posso avere anche un po' di timidezza, un po' di sensazione iniziale di parlare, ma io porto tutto, non lascio niente a casa. Quindi non ho bisogno di niente, ho tutto. Un po' di sensazione, un po' di imbarazzo, un po' di voglia, ho tutto. Non mi manca niente. La vita non ti fa mancare niente, quando poi neanche la tristezza. Soprattutto la tristezza, sai quando ti viene? Scusa faccio un ponte. Quando ti dimentichi che sei viva. Questo è. Ma non può farmelo ricordare con la felicità? No, purtroppo no. Quindi come posso affrontare una situazione nel quale la vita proprio più forte di me mi spinge a una cosa che devo farle? Devo fare questa cosa è portandomi dietro tutto. Perché se tu ti porti dietro tutto non fai cazzate. Fai cazzate quando lasci a casa pezzi. Se io affronto la vita e lascio la mia timidezza a casa perché penso che sia un errore, questo buco non mi connette bene a me stesso e quindi faccio cazzate. Se io porto dietro tutto come la paura. L'amore allarga e la paura punta i limiti. Questo è il percorso. È chiaro che quando la paura è esagerata ti blocca. Però è un contenimento la paura. È fondamentale la paura. Noi stiamo cercando di creare spazio per far sì che il 90% di paura superflua non ci paralizzi. Senza tutte quelle idee che possono condizionare questa esperienza. L'idea la lasci dal momento che tu agisci integro. Integro nel senso che ho paura, sono timido. C'è una cosa che ti guida. Se poi la tua mente, attenzione perché questa domanda mi potrebbe far capire questo. Che è capitato che la mente ti spinga a fare una cosa e il tuo cuore non voglia. Ho parlato fino adesso del contrario. Il tuo cuore vuole e la tua mente ti dice fermati. Ma l'amore è proprio questo. E quando tutto il tuo pensieri, paura ti dice fai questo, non fare, tu puoi scegliere se fermarti o andare. Portando dietro tutta la carovana. Tutta la carovana. Timidezza, paura, delicatezza, fragilità, tutto. Anche perché poi queste emozioni sono il fuoco della vita. Integrità. L'integrità è fondamentale. Muoviamoci con tutto. Con la nostra tristezza, con la nostra paura. Tutto. Perché io devo fare un salto. È meglio che la mia tristezza la lasci qui. Ma che scherzi. La tristezza è veramente, è elastica, è morbida. Ogni volta che cadi, un pianto ti salva. Se tu la tristezza la porti, la lasci a casa, diventi duro. Quando cadi, ti sbricioli. Mi seguite? Tutto serve. Anche la rabbia. Anche la rabbia. Guardate i vulcani. Quando la vita ha bisogno di una nuova isola, chiama un vulcano. E non ci sono vulcani spirituali che lanciano petali. Mi seguite? Il vulcano è fuoco. Caldo. Provate a sentire questo. A immaginarvi di essere un vulcano. Chiudete gli occhi. Siete una montagna gigantesca con un grosso cratere. Siete nell'oceano. E siete pieni di lava. Calda. Non c'è fatica. C'è lava. Calda. Pietra fusa. Siete ancorati alla terra. E la lava. Arriva un movimento così forte forte. Voi non vi opponete in nessun modo fino a che inizia a esplodere qualcosa. Più forte di voi. Dal centro della terra arriva una forza così grande che porta via tutto fino a uscire dal cuore del vulcano. Non c'è sforzo. Accade. Accade. e poi si ricalma. È più leggero, più libero. Ha bruciato tutto. Questo fuoco e questa lava ha creato, ha allargato l'isola. Ha creato insenature. Fondendosi con l'oceano si è solidificato. Siete più grandi. I vostri limiti si sono allargati. Sono cambiati. Siete più grandi e un po' diversi. Sempre voi. Ma inevitabilmente più grandi. Ogni eruzione siete più grandi. permettete a quello che avete dentro di uscire. Non fate scendere quello che sapete. Fate salire quello che siete. Fatto il respiro e aprite gli occhi. Siamo abituati costantemente a chiedere la vita. chiediamo la vita. Vita, dammi questo. Cambia quella persona. Fammi trovare questo. Dammi quello. Chiediamo. Vi rendete conto che continuiamo a chiedere la vita? Ok. Per un momento smettiamo di chiedere qualcosa alla vita. Adesso smettiamo di cercare, smettiamo di chiedere. Ora. e fatevi interiormente questa domanda. Cioè formulate questa domanda che è rivolta alla vita e dire, vita, io non ti chiedo più niente. Dimmi tu cosa io posso fare per te. Dimmi cosa io posso fare per te. Chiudete gli occhi. Per un momento vita io non ti chiedo più niente. Mi metto a tua disposizione. Dimmi cosa posso fare per te. Ovviamente per ascoltare la risposta bisogna stare zitti. Ascoltate il silenzio per un momento che c'è dopo questa domanda. Vita, io sono qua. Sono a tua disposizione. Dimmi se posso fare qualcosa per te. E ascoltiamo. La vita parla attraverso il silenzio. E non chiede di capire. Sentite questo silenzio. non ti chiedo più niente. Io sono qua. Alla domanda vieni con me o vai per i fatti tuoi. Voi alla vita dite per una volta, no, no, no vita, scusami, vengo con te. Mi fido di quello che sta accadendo. Vengo con te. La vita è nostra madre. La vita è nostro padre. Non ci ha mai fatto mancare niente e ci tiene vivi. Cosa vogliamo di più?